Ecco il calcio di punizione, il tiro alto di un soffio Riconquistata la palla da Dossena, data a Pruzzo, Pruzzo, tiro di Pruzzo, parata del portiere che poi evita anche il calcio d'angolo il tiro di Pruzzo in favore dell'Italia è al settimo minuto del primo tempo dalla bandierina a Marocchino colpo di testa di Collovati ed è gol Collovati ha portato in vantaggio gli azzurri Gentile colpo di testa di Marocchino è stato deviato per Lange, il numero 10 mentre Gentile batte il calcio di punizione, Dossena si è ristabilito Marocchino, bello il cross di Marocchino colpo di testa di Pruzzo di un soffio a lato qui a Napoli e ha sfiorato a più riprese il pareggio ecco il fischio dell'arbitro Italia batte Lussemburgo 1 a 0 il gol è di Collovati al settimo minuto all'escrizione